CITRA SANGUINIS E FUSIONAM La sentenza della masnada incappucciata sfogò alla fine l'empio furore contro chi credeva nella clemente legge dell'evoluzione. Il Papa Pio mandò all'arrogo il novizio di talento, non sapendo che era medium. Il fuoco prolungò l'agonia, che invece la forca e la scure avrebbero presto sbrigato. La clemenza non arrivò e le carni bruciarono alte, l'ampia coscienza del medium doveva essere punita specialmente. Commento La formula della condanna all'arrogo di Giordano Bruno fu Utto quam clementissime, et citra sanguinis effusionem puniretur Che fosse punito nel modo più indulgente e senza spargimento di sangue. Che fosse punito nel modo più 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 Grazie a tutti